Take it easy, take it slow We ended up just like before So take it easy, take it easy Ragazzi prima di iniziare con il video vi rubo giusto due secondi Da come potete leggere da questo grafico Il 95% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale Quindi se sei nuovo e non sei iscritto al canale Mi raccomando iscriviti con la campanella attiva Ringrazio di cuore ognuno di voi che lo farà Veramente grazie di cuore Ora vi lascio al video, buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite Mi raccomando ragazzi prima di incominciare Se non sei ancora iscritto mi raccomando iscriviti al canale Attiva la campanella e lascia mi raccomando un bel like E condividi questo video con i tuoi amici Per farli sapere questa sfida che è davvero molto importante Ragazzi oggi andremo a vedere una sfida che ci consentirà di riscattare lo stile segreto di Aquaman Quindi ragazzi mi raccomando tanti bel like Direi che non ci possiamo perdere in chiacchiere Ma prima volevo solo avvisarvi una cosa Per chi non mi seguisse ancora su Instagram Ragazzi check in alto trattino basso tv Se volete scrivermi Ho lì pubblico comunque ogni link in tempo reale Quindi mi raccomando seguitemi E detto questo Incominciamo subito ragazzi con il video Ci rechiamo subito nel sfide stile Questa schermata qui Perché come potete vedere Ragazzi Aquaman è ormai sbloccato E alle porte uscirà Uscirà il suo video sfida Giovedì Quindi giovedì alle 10 e mezza Troverete il video delle sfide tutorial diciamo Per sbloccare sia ovviamente il piccone Sia ovviamente la skin Però oggi parleremo invece per quello che riguarda lui Ovvero il suo stile segreto Infatti ragazzi una volta che avremo completato la quinta settimana Sbloccheremo sia il piccone che la skin E una volta sbloccate queste potremo anche riscattare il suo stile segreto Infatti se ci rechiamo in questa schermata abbiamo pure la sfida già presente Che adesso aspettate che finisce lo scorrimento della frase Ecco qua Tuffati nella cascata di forra favolosa Mentre indossi il costume di Aquaman Ragazzi andiamo subito allora in mappa Che ve lo faccio vedere Ok ragazzi eccoci qui La posizione esatta da dove ci dovremmo buttare È esattamente questa La cascata è proprio vicinissimo al lago languido Come potete vedere è molto semplice Sicuramente saprete ovviamente dov'è E la cascata dove c'è anche vicino comunque il ponte E la posizione comunque è questa Quindi basterà semplicemente ovviamente indossare il costume di Aquaman E poi una volta che avrete indossato il costume di Aquaman Vi recatene a partita Andate qui in questa locazione esatta E non dovrete far altro che buttarvi da questa cascata E una volta buttati la sfida sarà completata Ragazzi quindi per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Vi sia stato utile Noi ci vediamo comunque nei prossimi giorni con nuovi video E niente Bella Ciao